ITS Academy Tecnologia Made in Italy nelle Marche ha organizzato il primo Open Day a Fano dove ha presentato agli studenti il rinnovato corso di alta formazione per supertecnici esperti in smart robotics, digitalizzazione aziendale e progettazione 3D. L'Open Day è un momento molto importante perché gli ITS Academy sono delle strutture che si trovano tra il periodo di studio della scuola superiore, quindi della secondaria e del secondo grado e l'università e sono ancora poco conosciute. Però il mondo imprenditoriale ha molte aspettative su questi corsi perché dalle nostre Academy escono fuori i ragazzi che sono più ricercati dalle imprese del territorio in particolare, soprattutto sulle tematiche che sono le stesse aziende a definire. È molto importante questo Open Day perché anche se i ragazzi ci hanno già scelto, hanno capito, intuito, ma qua vengono a scoprire poi in realtà come è strutturato un corso e quali sono gli sbocchi occupazionali. La sala piena ha dimostrato l'interesse dei giovani per l'incontro organizzato, presenti anche persone più grandi con voglia di rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Durante la mattinata gli esperti relatori hanno spiegato il fondamentale binomio tra studio ed esperienza in laboratorio, che è il cardine del progetto. Si sono svolte anche dimostrazioni con strumenti tecnologici ed è stata offerta la possibilità di provare macchinari virtuali. È stata un'importante occasione di confronto per i giovani usciti dalle scuole superiori e non solo, per confrontarsi con imprenditori, reclutatori ed ex studenti dei corsi su programmi di studio e opportunità di carriera. Il nostro corso prevede una formazione tecnico superiore, parliamo infatti di TS. Si sviluppa in 1800 ore, le prime 1000 ore i ragazzi le svolgono in aula con dei docenti che sono o universitari o provenienti dal mondo del lavoro. Le altre 800 ore i ragazzi le svolgono in stage presso aziende che al 99% li assumono perché stanno cercando questi ragazzi come il pane. Il corso è gratuito? Il corso è completamente gratuito, non prevede costi, anzi abbiamo delle agenzie interinali che ci aiutano a sviluppare dei contratti già dal primo anno, dei contratti duali in cui il ragazzo può spesarsi anche un alloggio se viene da fuori provincia. Dove possono trovare tutte le informazioni? Allora lo trovano sul sito www.its4.0.it dove la Fondazione Recanati ha esposto tutti i corsi nelle varie province, nelle cinque sedi che sono Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Fano e Recanati ovviamente. Consigliere, l'importanza di un corso come questo per Fano? L'importanza di questo corso è che coniuga le necessità delle aziende locali che cercano personale qualificato e la disponibilità di risorse giovani che sono interessate a questa tipologia di lavoro e che hanno bisogno di una formazione che permette loro di inserirle nelle aziende.